DMDE, Ministero della Salute, cos'è questa roba? Ah, questi sono tutti i decreti ministeriali, perché questo dispositivo, che è un ulteriore dispositivo del trattamento dell'acqua BioVital, è in linea con le normative del Ministero della Salute. Allora, visto che parli di BioVital, dunque, il BioVital permette all'acqua di rubinetto di trasformare il calcare in aragonite e diventare buono e senza togliere i minerali che ci fanno bene. Perfetto. Ok. Questo aggeggio, che è un magnete potentissimo, tenetelo lontano dai computer, dai telefonini, dagli orologi elettrici, eccetera, perché fai vedere la forza di questo magnete. Poi, invertendo la polarità, è interessante questa cosa. Ok, allora, questo magnete permette, senza fare interventi, giusto, non devi tagliare i tubi, eccetera, di... No, avvolgi il tubo dell'entrata dell'acqua in casa, qui. Lo avvolgi, così. Ok. E? E trasforma il calcare, quindi il carbonato di calcio, per ragionamento di prima, la calcite, per capirci, aggregante, eccetera, che danneggia lavastoviglie, tubazioni, eccetera, eccetera, lo trasforma in aragonite. Ok. Quindi qua, io faccio una differenza, perché spesso siamo abituati a considerare ciò che è il calcare qualcosa che danneggia, giustamente, da un lato, e quindi compro qualcosa che me lo toglie. Ok? Allora, il fatto di toglierlo attraverso dei filtri, vedi, gli addolcitori, eccetera, eccetera. Indolcitori, a parte che richiedono una manutenzione, perché, ad esempio, nell'addolcitore ci devi mettere sempre il sale, devi mettere sempre queste cose. Chiaro, chiaro, esatto. E poi tolgono anche altri minerali che fanno bene. Perfetto. Perché se tu mi togli i minerali a monte, cioè all'ingresso dell'acqua in casa, il biovital ha un effetto limitato, ad esempio. Esattamente, esattamente. L'effetto lo fa sempre, ma lo fa su quello che trova che è di base limitato, esattamente. Quindi qui cosa abbiamo? Non abbiamo qualcosa che toglie, ok? Perché uno dice, eh, ma quello che avete voi lo toglie il calcare. No. Noi trasformiamo affinché poi l'acqua sia potabile, è sbagliato dirlo perché è potabile anche con un addolcitore, ma è bevibile, ok? Nel senso che mantengo tutti i minerali nella sua condizione, trasformando il calcare, quindi facendo diventare ragonite, che comunque non è aggregante e non va a... ed ha benefici a tutti gli elettrodomestici. Infatti molte persone che non ce l'hanno, per il ferro d'astiro usano l'acqua del biovital e non più l'acqua distillata. Sai che si compra le bottigliette, no? Certo. Per il ferro d'astiro. Quindi questo è molto importante. Qui abbiamo una letteratura scientifica che è datata, insomma, questo Lorenz, insinito di un Nobel, scoprì che quando il campo magnetico, appunto, dà magnetismo all'acqua, trasformiamo la calcite in ragonite. E il punto è che questo dura per sempre. E non ha bisogno di manutenzione, di cambio di filtri, di aggiunta di sale, di comprarsi... Questo ormai mi viene da ridere perché sembra che sia qualcosa di... No, in realtà funziona. E' chiaro che poi se uno non vuole più vedere nulla nell'acqua, basta filtrare aggressivamente, ovvio. Però, insomma, qua c'è chimica da... Non credo che sia... che abbia... come dire... che si possa sfruttare le cose su quello che insegna la natura. Il magnetismo lo fa e possiamo usarlo. In sito di un Nobel lo ha scoperto. Tutto qua. Lo attacchi e funziona per sempre. Una figata, secondo me. Che dici, Red? No, no. Anche perché io continuo a vedere degli spot, quando guardavo la tv, mi ricordo, c'erano gli spot di quella roba che elimina il calcare dalle lavatrici. Sì, esatto. I prodotti chimici, queste cose chimiche che eliminano il calcare. Guarda, Red, noi quello che facciamo con questi tre oggetti è un concetto, è una visione un po' più evoluta rispetto a quello che tu hai detto. I tre oggetti sono il biovitale, il biovitaldoccia e il blocca. Esatto. Sono tutti e tre oggetti che trattano l'acqua. Però quello che facciamo noi è trattare l'acqua in modo dolce, rispettandola per com'è. L'acqua dentro di sé ha già tutto quello che deve avere. Allora, l'approccio un po' più vecchio rispetto a quello che facciamo noi era quello di aggredire l'acqua e quindi andarla a scomporla, andare a togliere, per andare a rimettere, insomma, a fare tutte queste operazioni che hanno funzionato, perché funzionano. Noi facciamo un'altra cosa. Noi prendiamo l'acqua e la risvegliamo. Cioè, facciamo l'acqua. E trasformiamo. La risvegliamo. Certo. Perché ha già dentro tutto quello che deve avere. La natura, non possiamo pensare di essere superiore alla natura. Cioè, è questo che mi piacerebbe passasse come ragione. La natura ci dà... Noi dobbiamo essere grati per la natura, invece di andarla a distorcerla, a tentare, perché poi per la natura non si fa distorcere, ma tentare di fare questa operazione con costi, lavoro, eccetera. Noi prendiamo l'acqua e la risvegliamo per com'è. E ricordiamo chi è. Sì, esatto. E lei ci ringrazia. Perché noi la ringraziamo in qualche modo, no? Poi vorrei aggiungere una cosa, Red. Cioè, quando... Adesso Stefano ha detto una cosa interessante, no? Cioè, togliamo, quindi filtriamo, ma siccome poi negli ultimi... Insomma, non è che stiamo dicendo una cosa che siamo inventati io e Stefano, o che io vent'anni fa dicevo delle cose così, perché... Insomma, chimica, no? Se io tolgo, evidentemente, dopo manca. Parliamo dei minerali. E quindi aggiungiamo. Prendiamo gli integratori. Sì, dopo, ma aggiungiamo già nella fase, prima che esca l'acqua... Nei filtri, no? Cioè, ma cosa mettiamo da aggiungere? Forse bisognerebbe mettergli bottiglioni di marea, probabilmente, che non è meglio, no? Perché è completa. Ma, cioè, non posso dire... È come dire... È come fare un pastone. Cioè, io prendo dell'acqua, ci metto un po' di cucchiaini di qualcosa, non so, di magnesio, e mescolo. Mi sembra un po' tutto, no? Anche perché il magnesio c'era. Bravo. Perfetto. Hai chiuso tu, non c'è nient'altro da dire. Ok, ok. Grazie a tutti